ragazzi voci di corridoio dicono che c'è fedez in città su impero ora andiamo ovviamente facendo finta di non conoscerlo per non fare meta nel senso farò finta che non so chi sia fedez comunque signori poliziotti potete è possibile interdire l'entrata solo a chi c'è dentro e chi è fuori una foto di gruppo un bel cocktail grazie non alcolico e poi arriva scusate ma c'è un fotografo che cazzo sta succedendo 53 numaretto ma scusate chi è questo signore il paparazzo è già fuori già fuori il paparazzo blackout possiamo fare la foto di gruppo signor carlo signor carlo grazie cosa abbiamo fatto la fattura dove c'è il cocktail che facciamo anche la hashtag del locale che sono contento ma scusate chi è questo signore chi è questo signore oh cazzo cazzo no 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 tranquillo tranquillo che cazzo può andare capito andiamo forse in tutta la sicurezza avviciniamo che ci facciamo tutto pronto si si ciao ragazzi come state anch'io nella foto anch'io cazzo nooo si allontani si allontani si allontani si allontani ah io lo posso ciao senta sincerisca sincerisca venga sono un bravo uomo io non faccio cazzo ragazzi dai non faccia casino altrimenti altrimenti chi è che ha detto mi sta sul cazzo scusate scusate sicurezza eh carlo carlo assolutamente no io ho detto sono un bravo uomo non faccio un cazzo chi è che ha parlato chi è che ha appena parlato ah il signore qua il signore il signore non ci preoccupi tutto appunto io signore ma senta se ne vada via lei che è stato veramente maleducato ma chi ma chi si allontani subito allontanate la miccia scura si allontani ma come non ho fatto niente si allontani ma non ho fatto niente ho detto che non ho fatto un cazzo accidenti mi hanno emarginato ma è famoso quello eh si poi io avevo la macchina fotografica e mi stavano cacciando fuori ma si sono tutti fuori di testa sono tutti esaltati mamma mia a me ora mi hanno cacciato e non ho fatto niente perfetto cazzo ragazzi non mi hanno fatto fare la foto ma non ho fatto niente ma non ho fatto niente no e lei prima l'ho sentita allora parliamo io e te no sicurezza Lasciatelo pure Prima io ho sentito che mi ha insultato Non l'ho insultato nessuno Io ho detto non ho fatto un cazzo Sono un bravo uomo Io non faccio un cazzo Sì 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 Io lo giuro Lei mi sta veramente prendendo in giro No ma guardi Ma lei sembra una persona che prende in giro le persone Io Rich Stream Non mi sembra signore Facciamo pace Ha fatto un piccolo spammino Va bene facciamo pace facciamoci un salutino Sì dai La stretta di mano signore Muscolo invio Muscolo invio Ok va bene Non va Ma che cazzo Invio Tutto a posto Niente guardi le faccio un salutino Eh vabbè ci salutiamo col ditino Come si fa qui così Mi scusi mi scusi Ma non funzionano più i tasti Non si preoccupi Mi risulti Ho fatto saluto gang ma non va Saluto gang è tirare cartoni Vabbè Andiamo Gli lo spiego subito signor Va bene Quando si deve salutare in maniera formale Si usa il muscolo B Muscolo B Esatto Così Esatto Così Facciamo una fusione Vai Ma perché non mi va il muscolo Non mi va la 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 motion Proviamo le due Saluto gang due Saluto gang Eh vai A me arriva Esce qua Vedi Sì Vabbè comunque No Ragazzi a mia forza nocce Vabbè comunque No Ragazzi a mia forza nocce Vabbè comunque